Settimane particolari per la sanità regionale, siamo di fronte a una rivoluzione. Dopo 20 anni con un sistema che prevedeva la Surregionale e altre situazioni consolidate, si va verso un nuovo sistema in fase di elaborazione. Tante commissioni sanità che vi vedono coinvolti in questi giorni. E sulle fronte pesarese, l'azienda ospedaliera Marche Nord, che andrà a sparire, sta alimentando alcune preoccupazioni e allarmismi. Quindi le chiedo se del tutto giustificati o meno. Chiaramente da parte mia non sono giustificati, il dibattito politico è legittimo e concesso. Purtroppo molte volte non si riesce a capire neanche la portata dei problemi e quello che veramente la Regione in questo caso vuole fare. È una riforma epocale, una riforma che era stata annunciata nella campagna elettorale, era all'interno del programma elettorale e sostenere come è venuto in Consiglio Comunale che Marche Nord, anche perché la cosa molto strana è che a differenza poco più di un mese, prima in Consiglio Comunale si attaccava Marche Nord alle modalità di esecuzione, delle terapie, dei tempi, delle liste d'attesa, adesso guarda caso si difende Marche Nord. Mi sembra veramente un pretesto per, come sempre spesso accade purtroppo in questo momento, attaccare la Regione. E dunque si difende un progetto Marche Nord che dal vostro punto di vista è un progetto superato? È un progetto che è assolutamente superato, ma non lo dicono noi, lo dicono i numeri, la mobilità passiva è altissima, è la più alta in tutte le aree vaste delle Marche. Marche Nord era stata concepita esclusivamente per un progetto legato alle liste d'attesa, legato a bloccare la mobilità passiva e purtroppo non è riuscito a raggiungere il risultato per il quale è stato creato. Quindi noi vogliamo sicuramente creare un sistema diverso, nuovo, che sia veramente capace di ottimizzare il sistema e di rendere la sanità sicuramente più accessibile a tutti. Quello che si sta progettando su Muraglia e anche la salvaguardia dell'ospedale di Fano sono elementi che avvalorano come questa sanità non sarà depotenziata sulla provincia? Assolutamente. L'assessore Saltabratini ma anche il presidente Acquaroli ha chiarito in maniera molto netta che le specialità, le eccellenze di Marche Nord non verranno sicuramente depotenziate ma sicuramente verranno potenziate, verrà solamente per il territorio, per la costa e per l'entroterra un effetto sicuramente positivo. L'integrazione con il territorio è importantissima anche in previsione di tutti i fondi che verranno destinati e sono destinati con il PNRR e quindi la creazione di case di comunità, ospedali di comunità e tutto quello che avviene a livello comunitario, distanziamento di tantissimi fondi per i nostri territori. Facendo un passo indietro a quella che è stata l'ex amministrazione regionale, oggi l'ex governatore Luca Ceriscioli sulla stampa ha sottolineato la grave carenza di posti letto, circa 300 che mancherebbero all'appello all'area Vasta 1, qual è il vostro punto di vista su questa accusa? Per una volta sono d'accordo con l'ex governatore Luca Ceriscioli, effettivamente questo è vero, è un dato che noto a tutti, peccato che questa critica proviene proprio da colui che è stato l'ultimo assessore alla sanità, governatore della regione Marche, assessore alla sanità proprio della provincia di Peso Rubino, nonché i precedenti assessori alla sanità degli ultimi dieci anni è stato Merino Mezzolani che è sempre un esponente del PD locale della provincia di Peso Rubino, quindi questa appare una critica da un lato giusta ma assolutamente pretestuosa considerando il soggetto da cui proviene la critica, quindi sicuramente dovremo lavorare su questo, la provincia di Peso Rubino ha bisogno sicuramente di incrementare i posti letto in relazione ai posti letto delle altre aree vaste, ma sicuramente lo analizzeremo all'interno del piano sociosanitario che al termine di questa riforma della legge 13 verrà subito messo in campo e inizierà l'iter all'interno della commissione competente.